Ti rendo lode, oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivolate ai piccoli. I piccoli? Chi sono i piccoli? I piccoli di cui Gesù parla siamo noi, piccolo sei tu, piccolo sono io. E non è una questione di età anagrafica, non è una questione puramente biologica o di data di nascita. Essere piccoli significa per Gesù avere la consapevolezza che tu agli occhi suoi sei piccolo, sei una realtà da custodire, sei una realtà da conoscere, sei una realtà da preservare. I piccoli sono coloro che sono amati dal Signore. Quindi quanto più tu, io, quanto più noi ci sentiamo piccoli, quanto più noi ci sentiamo incapaci e indegni, tanto più il suo amore grande si riversa su ognuno di noi. Quindi buona piccolezza a te che sei piccolo e buona giornata.